Gentili telespettatori, buona giornata, vi racconto di questa intervista ad Elena, che si fa chiamare Ellie, il capo del Partito Democratico. Che cosa dice? Andiamo a vedere perché ci sono delle cose... sapete che quando parla io vi faccio l'analisi... va bene. Il PD torna in piazza all'undici con una sua manifestazione, quindi la Schlein si è fatta la sua manifestazione, questa volta non va a imbucarsi nelle manifestazioni degli altri, è già un passo avanti, è già un passo avanti, ha tirato fuori la voglia di lavorare, no? E' perché è più facile il sabato uscire di casa e andare nella manifestazione della CGL o del Giuseppi, questa volta fa la sua, si è messa a lavorare. Ed è questa manifestazione praticamente una cozzaglia di tutto, tutto, ci ha messo dentro dal Medio Oriente, dall'Ucraina, al lavoro, ai diritti, la scuola, tutto, 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 no? Qualsiasi cosa c'è nella manifestazione. Dice, per cosa manifestate? Per qualsiasi cosa. Di solito le manifestazioni, un politico organizza una piazza quando in modo parlamentare non si riesce a fare nulla, ma non puoi fare una manifestazione su tutto. E non ha senso. Quando si va in piazza è per un tema serio che non si può risolvere in Parlamento. Se vai in piazza su qualsiasi cosa non è più neanche una piazza, cioè non ha senso organizzare una manifestazione su tutto, su qualsiasi cosa. E' dispersivo, non ha senso. Perché il compito dei parlamentari è quello di fare i parlamentari, non di portare le persone in piazza. Vabbè, comunque. Ma lei dice, Elena che si fa chiamare Ellie, facciamo quello che non fa il governo, avere una visione del futuro del paese. Cospiterina, Elena che ha una visione del futuro del paese, ma quale sarebbe questa visione? Dice poi, la pace, la giustizia sociale e climatica. Quindi giustizia e climatica sono strettamente intrecciate. Quindi la pace nel mondo e il clima sono intrecciate. E beh, complimenti Elena. Continua a farti chiamare Ellie che va bene così. E poi dice, questa consapevolezza c'è nella società e anche nell'innovazione straordinaria dell'enciclica Laudatosi. Caspiterina, mi parla anche delle encicliche. Mi viene la pelle d'oca. Ed è la più recente esortazione Laudato Deum. Caspiterina, potremmo fare Elena Ponteficia Massima, no? Beh, insomma, nella Chiesa, con questa cosa che i papi sono tutti uomini, c'è una forte discriminazione. Le donne, le suore non possono fare messa. Caspiterina. Secondo me dovremmo fare la papa, la papa Schlein, la papa Elena. Va bene, sarà una piazza aperta a chi vuole difendere la sanità pubblica dai tagli. In realtà nella sanità pubblica non ci sono stati dei tagli. Bisogna essere più precisi. Gli aumenti nella sanità non sono tali da poter coprire l'erosione dell'inflazione. Quindi nella sanità c'è stato un aumento che non è stato però sufficiente a coprire l'erosione dell'inflazione. I tagli non ci sono stati. Elena, Caspiterina, capo del secondo partito italiano e mancano proprio le basi, le basi di conoscenza dei temi più elementari. Non c'è stato un taglio. E poi dice lottare per il diritto allo studio. In Italia il diritto allo studio c'è. Quindi è lo stesso diritto allo studio che c'era quando loro hanno governato dieci anni. Anche qui Elena non ci siamo. Lottare per il diritto al salario minimo. E su questo sono d'accordo. Contro la precarietà. Elena, ma non gliel'ha detto nessuno che la precarietà, la precarietà è scesa fortemente con il governo Meloni. Quindi contro la precarietà che il governo Meloni ha fatto scendere? Diteglielo perché forse non lo sa. E tutte le discriminazioni. Cosa c'entra un governo con le discriminazioni? Non si sa neanche quello. Accompagnare il poese nella conversione ecologica. Dite a Elena, che si fa chiamare Ellie, che la conversione ecologica di tutte le aziende italiane ha un costo che nessuno si può permettere. Dice, è così. E così è, se vi pare. E poi dice, una piazza per chiedere la pace. Un cessate il fuoco. Ma a chi lo chiedi? Vi ricordate le piazze per regeni? Le bandiere che mettevano ai balconi e facevano pure i cartoni ritagliati con regeni seduto sulla panchina? A che cosa sono servite le piazze per... No, scusate, per Regeni... Per Zacchi, no? Tutte le piazze fatte per Zacchi. A cosa sono servite? A niente. La Meloni poi lo ha fatto liberare. L'ingrato. Quindi le piazze per chiedere la pace, il cessate il fuoco non servono assolutamente a nulla. Assolutamente a nulla. Se vuoi Elena, che ti fai chiamare Ellie, forse dovresti prendere il telefono e provare a telefonare se ti risponde a qualche politico coinvolto e dire, senti, ascoltami cinque minuti. Ecco, forse una telefonata è meglio di andare a fare una piazza per la pace che in realtà non serve assolutamente a nulla. Comunque. Poi parla dell'antisemitismo, l'aumento è estremamente preoccupante, va contrastato in ogni sua forma e qui siamo d'accordo. È come se la storia non ci avesse insegnato nulla. Eh no. Con la politica, con la cultura della cancellazione, il politicamente corretto, dove tu non puoi parlare di alcuni temi ma devi parlare solo delle farfalle che volano, altro che se la storia non ha insegnato nulla, proprio zero. E poi sulla telefonata scherzo a Meloni dice non so se sia peggio la grave falla emersa nel filtro diplomatico delle comunicazioni che attengono alla sicurezza nazionale o il tentativo della maggioranza di arrampicarsi sugli specchi per minimizzare un fatto che ha messo a rischio la credibilità internazionale del paese. Ma no, anche qui ti sbagli Elena. Non ha messo a rischio la credibilità internazionale del paese. Ha messo a rischio la sicurezza del paese. La credibilità internazionale. Quindi anche nella critica non ci siamo. Cioè anche se lei fa una critica mezza giusta non ci siamo. Non c'entra niente la credibilità internazionale ma c'entra la sicurezza del paese. La sicurezza militare e politica del paese. Elena, studiare ancora è studiare ma... Arrivederci a tutti e grazie.